Dopo un mese senza vittorie, Lavastese torna a sorridere, lo fa con un 4-0, ritrovando quel successo che all'Aragona mancava addirittura da un mese e mezzo. Forse è troppo severo il risultato, per quanto visto soprattutto nel secondo tempo il Tolentino aveva provato a riprenderla, aveva sfiorato il pari, ma dopo il miracolo di Lorenzo Bardini, i biancorossi hanno trovato in rapida successione le altre tre reti per portare a casa i tre punti. Mister Amele ancora orfano di Palumbo, ma ritrova Vittorio Esposito che parte inizialmente dalla panchina. Dopo la prima occasione firmata da Dos Santos, risponde il Tolentino con la conclusione alta di Capezzani. Strappo di Stivaletta che serve Francesco Esposito, ma a centroarea il centrocampista Umbro non trova l'impatto con il pallone. Lavastese preme e al 27esimo trova il meritato gol. Calcio d'angolo battuto da Nicolò Cavuoti. Il portiere ospite non controlla la sfera, Giorgi sul secondo palo deposita il rete, trovando il primo gol in maglia biancorossa. Sul finire di primo tempo si svegliano i marchigiani che con un'azione di Minnozzi provano a pareggiarla. Palla a lato di poco. Altra storia nel secondo tempo, quando il Tolentino preme forte sull'acceleratore, va vicino al gol in due occasioni su palle inattive, ma è clamorosa quella che arriva all'undicesimo, quando Minnozzi tutto solo colpisce a botta sicura di testa, ma sulla sua strada trova Lorenzo Bardini, incredibile miracolo del numero uno livornese. La porta è salva. Un minuto più tardi Lavastese in contropiede, sigla in raddoppio. Cross perfetto di Marianelli, testa di Bomberdo Santos, che insacca la nona rete personale, confermandosi il capo cannoniere del girone. Tolentino al tappeto. Da lì in avanti Lavastese cala il tris con il neo entrato Vittorio Esposito, meno di 200 secondi in campo, riceve palla dal limite e con un destro fulmina l'estremo marchigiano. Poco prima del triplice fischio c'è gioia anche per Anzini. Conclusione dal limite, deviata dall'Aborì e il 4-0 che premia Lavastese. Festa al triplice fischio sotto la Davalos. Tra sette giorni all'Aragona sarà sfida contro il Porto Sant'Elpidio. I biancorossi proveranno a conquistare altri tre punti. Era importante vincere, era importante saper soffrire, non prendere gol. Abbiamo sofferto un colpo di testa dove è stato fenomenale Bardini, però la squadra ha tenuto bene, ha saputo con intelligenza poi trovare le giocate giuste per trovare gli altri gol, chiudere la partita e poi gestirla, lasciando anche un po' di campo a loro, soprattutto dopo il 3-0. Questo credo che sia normale, giusto, ma la cosa che è da sottolineare è il finale. Il finale è molto bello, la squadra, la gente, tutti insieme. Questo è un passo importante per fare quello che vogliamo fare, che è costruire qualcosa di importante. Per quanto costruito nel primo tempo, la Passese avrebbe meritato già di stare avanti più di un gol, solo che nel secondo tempo, a inizio ripresa, il Tolentino ha spinto forte. Che cosa è successo? Nulla che è per obbligo di risultato. Il Tolentino ha dovuto alzarsi un pochino, pressare un po' di più. Ci sono state un paio di situazioni dove abbiamo sofferto, è stato molto bravo Bardini sul colpo di testa, però poi abbiamo ripreso le misure. È importante in quei momenti tenere duro, saper tenere duro e venirne fuori. Noi ci siamo riusciti, però c'è da sottolineare che comunque di fronte è una squadra molto organizzata, ci ha messo in difficoltà, nonostante in primo tempo si poteva sfruttare meglio qualche giocata. Io credo che alla lunga la vittoria è meritata, il risultato è frutto di quello che poi è accaduto durante la partita, però per come è stata interpretata dall'inizio nella strategia di gara, nel modo in cui sono entrati anche i ragazzi dalla panchina, credo che abbiamo fatto egregiamente. Infortuno di Pollaccio? Questo è da valutare perché la caviglia gonfia, se Gianluca esce c'è qualcosa di importante perché è un gladiatore, difficilmente lascia il campo anche senza una gamba, purtroppo è da valutare bene il sinfortunio. Spero che non sia nulla di grave, che sia solamente dolore del momento e basta perché è un giocatore troppo importante per noi. Dispiace perché la squadra c'era il più giusto, ha fatto giocate importanti, ogni volta che possiamo fare con noi non ci siamo riusciti e l'episodio sia il primo gol, l'uscita a voto dei ragazzi, inizio secondo tempo, abbiamo l'inerzia della partita in mano. Dopo la parata del portiere, dopo il giunto di fronte hanno fatto gol, l'episodio è venuto a mancare. Però i ragazzi, a parte gli ultimi dieci minuti, anche quando perdevamo 3-0, ci hanno provato, ci hanno cuore. Dispiace perché contro queste grandi squadre è l'episodio di girare a favore. Oggi è girato male, però i ragazzi ci hanno provato contro una squadra che ha un'ambizione diversa rispetto alla nostra.